Sì, intanto faccio i complimenti alla squadra, al mister e al suo staff per come è stata preparata la partita e per come è stata affrontata la gara. Una gara che ovviamente stavamo prendendo con le mole prima del fischio d'inizio perché abbiamo incontrato sulla carta la regina del campionato, quella che dovrebbe essere la regina del campionato, uscire con un risultato così pesante e con una prestazione così importante ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Rimaniamo assolutamente con i piedi per terra, portiamo a casa questa bella prestazione e come dico io adesso mancano 38 punti alla quota salvezza. L'operazione Volpicelli, un'operazione lampo perché purtroppo il cambio di decisione di Murano di andare da una società ad un'altra un po' ci stava mettendo in difficoltà. Io avevo già trovato accordi con Volpicelli però se non partiva Murano non potevo chiudere l'operazione Volpicelli. Ho scommesso tutto su Volpicelli, ho fatto una scommessa personale, ho detto se riusciamo a chiudere il contratto entro venerdì sera io sono convinto che farai doppietta contro l'Avellino. Quindi sono stato anche un buon pronosticatore della prestazione del ragazzo, ma al di là di questo sono contento dell'operazione fatta. Io voglio ribadire, Picerno merita rispetto, chi non vuole rimanere a Picerno noi siamo sempre disponibili a trovare le soluzioni per farlo andare via. Chi pensa di andare altrove perché ovviamente la società nuova in cui va la reputa migliore del Picerno noi gli diamo assolutamente, lavoriamo per trovargli la sistemazione perché non tratteniamo assolutamente nessuno. Quindi siamo contenti di quello che finora abbiamo fatto. Direttore, diceva prima che non si aspettava un deputo così, approfitto di questa risposta di Pazienza per girare un'osservazione con lei, questa sera si aspettava così tanto Picerno e le chiedo ovviamente così tanto poco a Avellino. Se mi permettete io ho visto tanto Picerno, devo dire la verità, abbiamo messo in difficoltà l'Avellino che ripeto per me è la regina di questo girone, è stata costruita e penso che ci saranno ulteriori operazioni nei prossimi giorni per andare ancora a rinforzare la Rosa. Io ho visto veramente tanto Picerno, al di là dei meriti dell'Avellino io mi sento di dare tanti meriti alla mia squadra che è stata impeccabile, se non sbaglio il primo tiro dell'Avellino in porta è arrivato intorno all'ottantesimo, ottantaquattresimo. Quindi questo denota la grande prestazione che ha fatto la squadra, la grande prestazione del gruppo che ripeto è la nostra forza perché da noi prime donne non ce ne sono ma è il collettivo che vince sul campo. Invece per quanto riguarda l'ultima settimana, l'ultima parte di mercato, Picerno credo lavorerà in uscita, dobbiamo aspettarci qualche altra ciliegina sulla torta anche in entrata, considerando che comunque negli anni passati Picerno nelle ultime ore ha sempre fatto qualcosa oppure lei si diviene soddisfatto? Io sono già soddisfatto del lavoro che abbiamo svolto con Roberto Franzese, sono convinto che abbiamo scelto dei profili giusti per quello che è la nostra squadra, la nostra realtà. Noi dobbiamo portare avanti una politica e l'abbiamo dimostrato che è quella di prendere giocatori sconosciuti, giocatori scartati da altre società, portarli a Picerno, rivalutarli, dargli di nuova vitalità e poi dopo cederli. Ed è quello che è successo con Gallo, è quello che è successo con Murano, non è successo con altri giocatori perché non si sono realizzate tre condizioni. Io dico sempre, quando un giocatore manifesta di voler andare via da Picerno noi lavoriamo per far sì che tre condizioni si realizzano. Una è quella che la nostra società deve essere soddisfatta in termini economici. Il giocatore deve trovare l'accordo con la nuova squadra e dobbiamo lavorare per trovare un nuovo sostituto. Per Gallo e per Murano questo è stato possibile farlo perché quando qualcuno manifesta, così come l'ha manifestato l'ex allenatore, di andare via da Picerno perché pensa di andare in un'altra società per nuovi stimoli e perché ritiene quella società magari più importante della nostra, noi li lasciamo tranquillamente andare via a patto che si realizzino queste tre condizioni. Detto questo il Picerno ha in uscita Ceccarelli, al giocatore e al suo procuratore questo gli è stato comunicato, c'è ancora una settimana di tempo, purtroppo c'è un regolamento da rispettare in Lega Pro che è quello della lista e Ceccarelli purtroppo non rientrerà in lista. Se non si troverà una soluzione Ceccarelli rimarrà fuori lista. Con grande dispiacere, lo dico perché per noi è un giocatore importante, però purtroppo i regolamenti non li scriviamo noi, noi ci dobbiamo adeguare e li dobbiamo attuare. Ci sarà ancora qualcosa in entrata, sicuramente ci sarà qualcosa in entrata, non ci faremo trovare impropriarati, ma ci sarà qualcosa in entrata. Ripeto, mi dà fastidio parlare di ciliegine perché la nostra forza è il collettivo, l'avete visto oggi. Volpicelli è arrivato da 48 ore, subito si è integrato bene nel gruppo, ha soddisfatto quelle che erano le richieste del mister e quindi ha realizzato una doppietta importante, Vitali che veniva da un periodo di assenza molto lungo a causa dell'intervento al crociato, ha fatto una prestazione sontosa, così come tutti i 15 giocatori che oggi sono andati in campo. Quindi noi continueremo per andare a rafforzare il collettivo, non abbiamo bisogno di prime donne, non abbiamo bisogno di fuoriclasse, ma abbiamo bisogno di gente che viene qui a sposare il nostro progetto. Grazie. Direttore, posso farvi una domanda riguardo anche a uno dei giocatori che oggi abbiamo ammirato, l'ho apprezzato, come Gili. Nel inizio di me fa, guarda, l'interessamento della Luce, c'è stata una trattativa tra dei perennetti per Gili? C'è stato un interessamento da parte dell'Avellino, però poi dopo non sono arrivate richieste ufficiali da parte dell'Avellino. Gili è stato un giocatore attenzionato da tante società, però come le ho detto oggi non è facile trovare difensori sul mercato, difensori liberi che hanno le sue qualità. Sono arrivate delle proposte, ma erano delle proposte che non soddisfavano né noi né il calciatore, e quindi Gili continuerà ad essere un nostro calciatore fino a fine stagione. Grazie.